Dopo la manifestazione di erisera per chiedere il rilascio di Michele, l'attivista del Movimento Nomuos, fermato durante gli scontri di sabato a Palermo, stamattina un gruppo di compagni del giovane si sono riuniti in presidio ancora davanti al carcere Occiardone. Attendono di conoscere l'esito della decisione del giudice per le indagini preliminari che stamane ha tenuto l'udienza per la convalidomeno del fermo dell'attivista. Intanto i ragazzi del Movimento Nomuos, appoggiati dai centri sociali della città, aspettano e sperano che Michele venga rilasciato. Lo hanno ribadito anche ieri sera con fiaccole fumogeni, giochi d'artificio e core antifascisti, urlati contro la polizia e ritenuta schierata a difesa dei fascisti. La manifestazione di sabato, autorizzata dalle forze dell'ordine, era stata organizzata dalla rete Nomuos, che si riconosce negli ideali della destra. Prevedibili dunque gli scontri con gli attivisti del Movimento Nomuos, sostenitori della sinistra, e secondo i quali i primi avrebbero strumentalizzato la lotta contro il radar militare USA in costruzione a Niscemi per fini politici, riscenando una farsa creata d'arte da alcuni partitini della destra, per cercare un po' di visibilità sulla pelle del popolo niscemese siciliano.